Uno teneva chiusa la porta, l'altro invece mi palpeggiava e baciava. E' questa la terribile accusa di una ragazza appena a 15 anni nei confronti di altri due giovanissimi, uno dei quali minorenne. Sarebbe successo lo scorso 25 ottobre all'interno dell'Istituto Onnicomprensivo di Pieve Santo Stefano, Valtiberina e Aretina, durante un'assemblea. La giovane aveva subito raccontato quanto accaduto alla preside. Era così scattata immediatamente la denuncia all'apertura di due fascicoli, uno in procura ad Arezzo nei confronti del maggiorenne, l'altro a Firenze alla procura minorile. Il racconto adesso è stato ripetuto in tribunale nel corso di un incidente probatorio. Lei ha raccontato di alcuni palpeggiamenti e in particolare di un bacio cosiddetto rubato dal mio assistito, mentre l'altro coimputato teneva ferma, chiudeva la porta e non faceva entrare nessuno in questa classe. I due ragazzi, un 18enne di origini magrebine e un 16enne russo, sono accusati di sequestro di persone e violenza sessuale di gruppo. Entrambi però respingono ogni accusa. Il maggiorenne, inoltre, è stato già espulso dalla scuola. Il suo legale ha presentato ricorso al Ministero della Pubblica Istruzione. Credo che un provvedimento così invasivo, così forte, avrebbe dovuto attendere quantomeno l'esito del procedimento penale, perché noi diciamo che questo bacio rubato, che non costituisce il reato di violenza sessuale di gruppo, e anche perché tenga conto che è un reato che prevede come pena editale da 6 a 12. Insomma, lo trovo eccessivo.